3,2,3 Allora, cerchiamo piano 2 ragazzi, cerchiamo di dare un po' di finitato a questo gioco, di nascondere 9-10, di presentarsi il gioco del campo per metterlo in difficoltà, ci servono questi sostegni continui, se riusciamo a darci ritmo fuori, vedete un po' se dovete fare nelle unit, se dovete allargare il giro, rimane a quasi 3 quarti di squadra, io chiamo a voi, quelli sono l'ultimo che fate sul momento, però loro li dobbiamo far correre ragazzi, loro non sono una squadra che corre, cominciando così partiranno ancora di più, noi dobbiamo cercare di giocare in piedi, cerchiamo di giocare oltre la difesa, offload, continuiamo ad andare, ma sempre passaggi sicuri, contatto visivo con il compagno e apriamo la palla, se non vedo che mi guarda negli occhi con la palla non gliela scarico, dobbiamo dare una palla alla cieca e perché il compagno ce la chiamano. Marco, andiamo anche noi, Giorgio. Giorgio, 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 G Grazie a tutti.